Girono bene palla alla ricerca del barco giusto, prova a piazzare, hanno aperto le marcature in questa finale di Comebol Libertadores. Possiamo rivedere il gol, difesa che poteva fare qualcosa di più per interrompere il lungo franzeggio avversario. E' venuta fuori una conclusione fantastica, calciato il volo, guarda che traiettoria che ha trovato, imparabile, madre mia.